Quanti topi devi dare a mangiare a un serpente ogni giorno? Intanto per dare da mangiare più topi a un serpente nello stesso giorno significa che hai delle prede troppo piccole, quindi appunto devi dare a mangiare 2-3 topi delle stesse dimensioni, magari 3 da 30 grammi invece di 1 da 90. Quasi tutti i serpenti mangiano una volta a settimana, una volta ogni due settimane, anche in base alle dimensioni. Un baby avrà un metabolismo più veloce, quindi mangerà un piccolo di topo a settimana. Un adulto avrà un metabolismo più lento, cioè anche a dividere nelle specie, perché per esempio i pitoni hanno un metabolismo molto più lento rispetto all'ampropeltis. Un pitone adulto mangerà ogni due settimane, un lampropeltis adulto magari ogni 10-12 giorni.